Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro video vi presentiamo un tronchesino di qualità. È un tronchesino con taglio a 45 gradi ed è possibile tagliare fili con un diametro di 1,3 mm. È usato in elettronica, per modellismo, nel settore orafo, per chi fa collane e bijoux. Ottimo prodotto, è un made in Italy. Grazie. Grazie.